Buongiorno, mi chiamo Alessandro Brunner e sono il titolare della pizzeria La Bottega di Alessandro Brunner. Ci troviamo a Cardito in Viale Primo Maggio. Oggi presento questa pizza del Mulino Braga. Il mio impasto è un impasto diretto da 30 a 36 ore cedì di maturazione. Io uso un bread di farine che va dalla 0 fino ad arrivare alla 1. E' con un punto di tratazione che va dai 70-72%. Questa è una pizza fatta con dei prodotti giamonita, con una mortadella IGP di Bologna, un formaggio di pecora fresco, scaglie di parmigiano, pomodorini gialli e mozzarella.